qualcuno dirà ma allora non sta male ancora fai video sta testa di cazzo beh in realtà no il problema c'è fino a che mi sento bene perché non devo vivere bene no sto facendo il drammatico forse però la mente chiaramente ha dei momenti molto molto tristi ma cerca di lavorare su se stessa per accettare tutto e poi vedremo quello che sarà sarà come si dice però ho detto sono troppo innamorato di queste cose di queste nostre lavorazioni troppo adoro troppo il lavoro che facciamo l'impegno che ci mettiamo la passione che ci mettiamo l'amore che ci mettiamo mi piace troppo e allora voglio fare una presentazione particolare da scemo rimbambito presento alcune delle ultime pippe che sono uscite che non avete ancora visto ma la voglio presentare in una forma un po un po diversa non parlo parlano loro non è grosso non è grosso piccolo gradivo 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 non è grosso non è grosso non è grosso ma questo è un po' tanto è che questo non può andare sì ma è una lavorazione fino a tutti ... Oh, 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 ha, hmm, 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 hmm. Oh, ah, ah, ah. Oh, 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 ooh, hmm, oh, hmm, oh, hmm, hmm, hmm. Aaaaaah Mh 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 Oh 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 Oh, oh. Alla cosa mi sono? Alla cosa. Mmh. Oh. Mmh. 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 Oh. Mmh. 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 Ma. Mmh. 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 oooo 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 ha mhm mhm vedo questo con una questo mhm 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 ooo 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 mhm mhm ooo 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 mhm 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 ooo ooo mhm ooo oooo oooo ho 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 ooo ooo ma schaele schaele am un Mmh. 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 Oh. 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 Mmh. 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 Yeah, like, yeah. That was a nice idea. Ah! Aw! Mmh! Ooh! Mmh. Mmh! Mmh! Mm, mmh, mmh! Mmh! Mm! Mm! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah, 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 quanto sono scemo. Ma potrà esserci una persona più scema di me? No. Con tanta voglia di fare più di me? No. Che non lascia mai il pezzo? No. Non credo, perlomeno. No, c'è tanta gente, brava, che ha voglia di fare. Però che ti nasce da qui, proprio, ti nasce da qui. E ho voglia di fare l'imbecille. Non lo so, se è piaciuto o meno. L'importante è che siano piaciute le pipe. Bene, questo era anche un video per dire buona Pasqua a tutti. e che veramente vi riservi tutto il meglio possibile. in famiglia, con le vostre gioie e sereni. Ciao ragazzi. Stupido, eh? Mamma mia, quando sono stupido. Sono stupido, stupido, stupido. Ma tanto, stupido. Ma tanto, potrà essere uno così stupido a 65, 65 anni. Sì, io. Ahahahah. Ma tanto, potrà essere uno così stupido. 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 Grazie a tutti.